Ciao a tutti e bentornati ancora una volta su Indie Gameplay It. Oggi altro tutorial di Archage Unchained. Oggi andremo a vedere una cosa che non è assolutamente indispensabile per il gioco e parliamo del peschereccio. Il peschereccio è una cosa, una nave diciamo che vi consenterà di approfondire la proficiency di pesca, che è questa, che risulta essere una delle più lente da far salire, forse anche in una delle più noiose, ma anche al tempo stesso una delle più redditizie. La prima cosa da fare, allora, da sapere una cosa, il gioco così all'interno del folio non vi spiegherà come fare a costruire il peschereccio, tuttavia potete scoprirlo andando a, prima di tutto, premendo il tasto N, andando nel marketplace e scrivendo il nome della nave, che sarebbe Fish Find Long Liner. Lo cerco e vedete, lo potete, il progetto non si scappa o lo comprate su marketplace per 500 gil da star, quindi state lì, accumulate il vostro capitale o lo trovate da qualcuno che lo vende all'asta a soldi. Una volta preso, io ho avuto la fortuna di averlo a 500 gold, trovandolo che è un prezzo bassissimo, però l'aveva acquistato uno trovato in gilda, trovato all'asta, vi dirà che cosa vi serve. Allora, prima di tutto vi serviranno una licenza di pesca, una steering wheel, quindi un timone, insomma, una di quelle ruote, diciamo, che girate per far curare la nave, un fish crane, un high power engine. Poi, un lumber pack, due lumber pack, scusate, quindi sono 200 lumber, due pacchi diciamo che trasportate, due fabric pack, quindi 200 fabric e 200 lingotti per fare appunto l'iron pack, più 45 gold per piazzare, se avete già visto, non fa parte di questa playlist di tutorial, ma un video gameplay che avevo fatto sul canale, dove costruivo il clipper, che è la prima navetta che vi potete fare, dovete montare una sorta di pontile e lì spenderete 45 gold solo per piazzarla e poi andrete pian piano a posizionare le varie cose. Ora, ci serve, ho già tutto, mi serve solo la fishing license e la fishing license la acquistate dal general merchant e costa 100 gold. La trovate qua, clic destro, acquisto e ce l'ho, ed ecco quello che mi mancava. Ora vi spiego brevemente quello che dovete fare. Allora, per ottenere i vari materiali dovete fare, e questo richiederà molti soldi, col tasto O potete andare a vedere che cosa vi serve, fishing boat, vedete scrivo fishing boat, steering whale e vi dice che cosa vi serve. Tavolo da carpentiere, 5 stash ad ingot e un precision toolbox. Per fare queste cose dovete avere o i materiali o acquistarli all'asta. Se siete dei novizi e non sapete potete premere P, aprire e andare a cercare le varie cose. Ad esempio, abbiamo detto lo stash ad ingot e li trovate in vendita. Se volete spendere qualcosina meno, se cliccate su qua, vi dice che cosa serve per farne uno. Quindi, per fare uno stash ad ingot servono tre stash ad chip. Quindi potete andare magari a comprarvi i chip e raffinare di voi stessi. Vedete, costano meno. Ogni tre, quindi dovete comprare una quindicina e ne fate tre e fate, scusate, cinque lingotti. Li vedete voi, insomma. Però, se cliccate, vedete anche se potete farlo. Non chiede nessuna profissi, insomma, solo un tavolo da smelter. Quindi lo potete fare. Poi il precision toolbox vi serviranno 20 lingotti di metallo, 10 lingotti d'oro, un diamante e 5 aceum ingot. Anche lì, se li sapete fare, li fate. Vedete qui, cliccate per fare serve l'aceum orta e li fate. Questo è giusto per farvi capire che quello che vi serve ve lo indica il gioco. Cliccate, vi dice come fare. Ricliccate qui, vi fa ritornare alla ricetta principale. E soprattutto, se volete fare qualcosa, potete vedere se siete in grado di farlo. Esempio, un esempio, il beekeeper's veil, che è il cappello da apicultore. Se io ci clicco, lui mi dice che mi servono mille di leather work che io non ho, perché ho 45, quindi non posso craftarlo. Quindi dovete fare, spendere almeno mille labor lavorando la pelle per raggiungere il livello mille. Ecco, questo è per intendervi che cosa serve per farlo. Ora, andiamo a fare il peschereccio, ora che abbiamo tutto, e soprattutto vi spiegherò che cosa serve esattamente. Siamo al porto di Two Crown, dove bene o male ci sono tutti i tavoli da lavoro. Quindi da qui poi sfrutteremo tutti i tavoli per fare i vari pack che ci servono. Sarà un lavoro abbastanza lungo perché dovremmo trasportare tutte le cose. Ora apriamo l'inventario e andiamo a prendere, vabbè adesso mi porto già magari in mezzo al mare, vediamo se me lo fa fare qui. Prendiamo il progetto e andiamo a piazzarlo. Dobbiamo trovare un punto dove si può costruire 45 gold. No, abbiamo bisogno di acque più profonde, c'era già successo anche per il clipper, quindi dobbiamo andare magari in mare aperto, perché qua siamo troppo vicini, perché poi vi andrete a vedere il peschereccio, è anche abbastanza grosso come nave. Ora, vediamo se riusciamo a piazzarla qui. Bella la visuale che passa così, diciamo, eccola qua, qua, 45, no, abbiamo bisogno di spazio più grande ancora. Spero di non dare fastidio perché lì c'è la nave che arriva, che parte, insomma, quindi se che servirà un po' di spazio. Qua. Ok, abbiamo piazzato il pontile. Ok, piazzato il pontile per il Fish Find Longliner, quindi dobbiamo andare a vedere all'inizio che cosa ci serve. Allora, all'inizio bisogna portare tutti questi materiali, quindi due di lumber, due iron e due di fabric di tessuto. Quindi iniziamo con il lumber, quindi andiamo, produciamo il pacco, io vedete ho già qua tutto. Gli altri oggetti, il timone, quelle cose lì, sono già state prese, quindi sono già state piazzate all'interno del pack, del, scusate, del progetto. Allora, andiamo a prendere tutto. Ok, produciamo il primo lumber pack, portiamolo, facciamo il secondo e poi passiamo al metallo e poi al fabric. eccoci, in realtà ho sbagliato perché ho fatto la strada più lunga, in realtà c'era su questo pontile tutte le workbench da utilizzare e quindi diciamo che il percorso è molto più breve da qui, come avete potuto vedere. Vedete che il peschericcio sta prendendo forma e adesso stiamo per andare a consegnare l'ultimo fabric pack, quindi ricapitolo quello che serviva, il progetto, 45 gold, il timone, il motore, il gancio, la fishing license e poi materiali, quindi 200 lumber, 200 iron ingot e 200 fabric. 200, 200, 200 per fare appunto due pack come questi di legno, di ferro e di tessuti. Ora stiamo andando a completare l'ultimo richiesto per finire il progetto del peschericcio che vedete sopra è quasi costruito e il peschericcio è molto utile perché è una nave che vi può tenere all'interno diversi pesci. I pesci valgono dai 7 gold fino ai 50 da quello che ho capito, quindi niente. Andiamo a fare F e quindi andiamo a scaricare in mare la nostra nuova nave e andiamo a vedere in che cosa consiste. Abbiamo preso la scroll, ora è evocabile liberamente. Dovremmo trovarla qua. Eccola qui. Quindi poi adesso la andrò a mettere da qualche parte. Questo è il peschericcio. Allora, la cosa interessante del peschericcio, che a parte che vabbè si guida normalmente ed è spinta a vapore insomma e possiamo usare un propellant per farlo andare più velocemente. La cosa interessante è che appunto qua davanti avete delle gabbie e potete tenere all'interno diversi pesci, quindi li pescate, li prendete, li mettete lì, quelli grossi che caricate sulle spalle come fossero dei pack. I pesci grossi, proprio quelli enormi, ne potete agganciare due ai ganci dietro e poi potete andare, in questo caso dove vedete quella ruota enorme lì, sono i fish stand dove potete andare a vendere i pesci. Questo è quello che... intanto sta arrivando la nave che trasporta le merci che abbiamo fatto in un precedente tutorial. Ora, il trucchetto che vi dico è, dato che la componente più costosa è Light Power Engine in tutta la costruzione, perché vedete chiede dei materiali costosissimi. Il Thunderstruck Wood, che è il legno che si ottiene solo da un albero fulminato da un fulmine appunto. Flaming Log, il Sandridge Ingoth, che sono Tier 3, gli ingotti Tier 3, che chiedono una marea di materiali, così come, vabbè, l'iron, il Golda Ingoth, che costa anche quello parecchio. Il trucchetto, nel precedente tutorial abbiamo visto come fare il carretto potenziato seguendo le quest principali del gioco, le Blue Salt Brotherhood, che sono quelle quest con la fogliolina verde. Vi avevo spiegato nel precedente tutorial che se non avete fretta di farvi il carretto, anche se il carretto è importantissimo, il carretto ha più posti, potete usare quel motore per, appunto, un progetto di questa portata o un qualsiasi altro progetto che richiede il motore, tipo la macchina, il sottomarino, insomma, dato che è costosissimo e tra materiali e tutto spenderete circa 2000 Gold. Io l'ho fatto, l'ho potuto fare perché l'ho usato, l'ho fatto quelle quest su un personaggio secondario, sul main, che è questo, avevo già il carretto. Però, ecco, potete craftarvelo oppure ottenerlo da quelle quest, non è un oggetto bandato, quindi legato all'account o al personaggio, ma potete spedirvelo al personaggio a cui interessa. Quindi è un piccolo trucchetto per risparmiare parecchi soldi. Comunque a livello di materiali si spende più di 2000 Gold per farlo, quindi se volete metterli da parte calcolate che sono un risparmiatore, ho già 1300 Gold, quindi pian piano, con pazienza, me lo sarei potuto fare. Ora, attendo magari di sapere se vi interessa vedere un tutorial sulla pesca, perché potrebbe essere interessante, perché potete poi andare a pescare con questa nave. Tra l'altro potete andare anche qui a vedere tutti i dettagli, potete modificargli un sacco di cose, potete montargli un altro appione, ha molti più slot per quanto riguarda l'equipaggiamento. Il clipper ne aveva pochi, aveva la vela, aveva il timone, aveva le due lanterne, qua invece avete anche la navigazione, avete appunto il timone e il propellente, insomma il motore, quindi potete andare a potenziare la velocità a cui vi muovete. Ora, non vorrei aver detto una cavolata, però io vi ho detto che tiene 5 pesci, ma in realtà è la nave di un gildano Arwen che mi ha aiutato molto, anche nel precedente tutorial, e quindi non so effettivamente se me ne tenga 5 o 3, o soltanto 3. Potete andare a potenziare queste casse, quindi tenere all'interno più pesci. Mentre invece, la cosa molto utile, e quello ve lo farò vedere però nel tutorial sulla pesca, potete mettervi qui, in questo radar, e in pratica all'interno di questa zona verde, blu scusate, vedete i banchi di pesci. Si parla però di pesca sportiva, non la pesca che fate normalmente dove pescate immediatamente il pesce. Trovate, non in questo caso, trovate proprio un simbolino di un pesce navigando, e ovviamente se siete in 2-1 lo fa e uno guida, se no dovete magari spostarvi, guardare se trovate qualche slot, segnarvelo sulla mappa e andarci. Sono slot dove si vedono dei gabbiani, e vi fermate e pescate, ma quello lo riservo per il tutorial sulla pesca. Pesca è abbastanza redditizia, avete, no ma in realtà ci sono questi che sono trade pack per trasportare, ok. Invece c'è il water tank che portano i pesci, ok, qua potete trasportare se volete commerciare qualcosa, li mettete lì, non valgono per i pesci, i pesci vanno qua. Credo a questo punto che, vedete qua ce ne sono 3, no no no, allora ok, i serbatoi qui servono per i pesci. Quindi qua mettete 5 pesci. Poi se volete commerciare invece, li mettete qua, all'interno di questi pacchi, e andate dall'altra parte a fare le trade, in pratica le cargo, scusate, dove trasportate da un lato all'altro delle merci, guadagnandovi dei soldi che vengono consegnati dopo 8 ore. Allora questo, poi qua potete andare anche a cambiare il logo della vostra nave, cambiare il nome alla nave, insomma, questo è una nave, diciamo, già di livello avanzato, che potete ottenervi sia lavorando i materiali, sia appunto costruendovi tutto voi, ma la cosa più importante e la più dispendiosa è appunto il progetto, 500 gil da star, e a livello di materiali siamo poco sopra i 2000 gold. Però se siete intenzionati a fare, a occuparvi della pesca, quindi andare a pescare in oceano, quello rischio sempre comunque di pirati, e poi andare a venderli ottenendo dei soldi, questa nave è imprescindibile, cioè non potete farne a meno, questa nave vi servirà. Fatemi sapere che cosa ne pensate di questo tutorial sul pescareccio, e alla prossima, e ciao ciao!